Stamattina abbiamo avuto questa sorpresa inaspettata, anche se la paziente aveva tutte le caratteristiche di un parto spontaneo anche veloce. Era una terzigravida e quindi aveva già due figli, aveva partorita già due volte, veniva regolarmente presso il nostro servizio di gravidanza termine. Ieri giusto appunto aveva fatto un controllo dove si era detto e si era congedata con il consiglio di trasferirsi presso il nostro servizio quando sorgevano i primi dolori. Questa notte sono sopraggiunti i primi dolori del travaglio ma è stato talmente un travaglio veloce che già nel trasferimento da Monteporzio a venire qua a Fano è successo che la donna ha partorito. Non è riuscita proprio per pochi metri perché è partorita proprio davanti il pronto soccorso, è stata subito assistita perché nel frattempo erano state allertate il 118 che ci aveva avvisato. Quindi l'ostetrica con il medico di guardia, la dottoressa Livi, sono subito corse verso il pronto soccorso. Il bimbo era già nato, era già nelle braccia della mamma, una bimba di 3,5 kg, è stato per cui è reciso il cordone affidata alle cure dei neonatologi che hanno detto che la bimba gode di buonissima salute. La mamma è stata trasferita in sala parto dove ha secondato senza complicanze alcune. E tutto si è concluso solo con un po' di paura da parte della madre che è rimasta un pochino scioccata per questo evento improvviso. Però ecco, è una storia che è andata a buon lieto, è finita bene, anzi abbiamo festeggiato tutti insieme intorno a questa neonata e questa mamma che praticamente aveva bisogno più di tranquillità perché non si era resa nemmeno conto di tutto quello che gli era successo. Grazie